Viaggiare su un treno di mezzato è l'esperienza vissuta questa mattina dai pendolari che dalla Valtellina doveva raggiungere Milano. Tutta colpa del guasto alle porte accusato da un altro treno. La vicenda sembra surreale ma è realmente accaduta. Tutto inizia all'alba alla stazione ferroviaria di Sondrio. Ad innescare la reazione a catena è stato il guasto rilevato sul convoglio 4990 delle 533, il malfunzionamento delle porte. Il treno, atteso a Tirano per le 6.07, è stato soppresso. Si tratta in gergo tecnico di un media distanza. Vuol dire che se non ci fosse stato il guasto il suo servizio non si sarebbe concluso al capolinea tiranese ma da lì avrebbe poi proseguito il viaggio nella direzione opposta fino alla stazione centrale di Milano. Così non è stato. È stata trovata una soluzione alternativa a dividere in due parti il Coradia, il treno più moderno in servizio sulla linea ferroviaria Tirano-Milano. Metà Coradia ha effettuato il trasporto dei passeggeri da Sondrio a Colico, l'altra metà da Sondrio a Tirano con partenza differita di 44 minuti rispetto al previsto. Ma non è finita qui perché il mezzo Coradia giunto a Tirano è poi ripartito in direzione Milano. Per i pendolari, studenti e lavoratori, un viaggio di 135 chilometri su un treno con posti a sedere dimezzati. Ecco una foto scattata sul treno a che ci è stata inviata. Immagini che parlan da sole. In collegamento con Giorgio Nana, segretario della Filt CGL Sondrio, che oggi ha vissuto con altri pendolari un'esperienza davvero difficile da descrivere. Questa mattina alle 7.40 partendo da Sondrio c'era il Coradia, ma solo metà. Con il Coradia formato da due carrozze ce n'era una sola. Pertanto 500 persone abbiano dovuto stare su un treno di 250 posti. Ecco, un episodio che aveva come origine un guasto alle porte di un altro treno. Difatti il mattino il treno doveva andare a Tirano aveva dei problemi, pertanto hanno dovuto sostituirlo e hanno pensato di mandare su un pezzo di un Coradia per evitare che la corsa venisse soppressa. Però poi il risultato è stato quello. La gente era molto incavolata. Naturalmente il treno è arrivato a Lecco che era già pieno. Tutta la gente di Lecco è salita, è venuta a farti tutto il viaggio in piedi, mamme con i bambini, anziani. Tanto è vero che intanto ci siamo alzati e abbiamo fatto sedere le persone più anziane. Quell'orario lì, il treno con più passeggeri, di sicuro c'erano 500 persone su quel treno, come dicevo prima, però con 250 porti a sedere e gli altri tutti in piedi. Come se non bastasse sul pezzo di Coradia diretto a Milano l'unico servizio igienico presente non era funzionante. Se il mattino è partito con il piede sinistro c'è stato poco da sorridere anche nel pomeriggio. Verso le 14 altri ritardi sulla linea per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni a Sesto San Giovanni.